salve ma salve bellissimi ma salve ma ma come state visto ancora un attimo eccoci ancora no eccoci qua ma buonasera buonasera buon giovedì 29 novembre a tutti cosa sto sentendo ciao allora salutiamo un grandissimo saluto a il gegge a giuslam ad acchetti e anche a due piedi per tutti coloro che vogliono unirsi alla partita invitando allora il room name è frufolo scritto come vedete e la password e la password aspetta che me la ricorda ah sì palle forse palle ma se c'hai sempre il dubbio ciao l'orea bar 10 secondi fa non ricordo più ovviamente se la password o palle non funzioni cari amici andate per il singolare palla esatto esatto il livello è bar però con una sola presso una sola erge è entrato quindi la pagina ragazzi non facciamo in tre l'orea perché o p allora copi l'orea mi dispiace l'orese troppo forte noi siamo gente che rossi tantissimo hai mai giocato con me sono qui per intrattenere il vostro pubblico pagine tu sei il nostro pubblico pubblico inception e si oggi si oggi si oggi giornale di lutto per lo streaming anche in questa occasione ci scorderemo di interromperlo chi imbarazzo ragazzi ti prendo carta da pacchi in testa ma non avete un po di fantasia comunque giuslam se siete resistiti alla prima la rapa e seguire tutta quanta questa live potete accedere ai programmi di addestramento astronauti della nasa a vedi quelli che ti fanno girare su quel coso vertigo se poi che si riempie di vomito e mori soffocato si chiama si chiama test dello stress da forza giro ma gravità il girometro e infatti effettivamente squisi un po bassa rispetto a noi ma devo alzarla anche al cento per cento la sento una merda metto a 103 parla un po alicia abbasso un po ma se c'è il microfono nuovo ed è forte e vi entro nel cervello cari amici e ragazzi che direi di partire già da così amici sono nelle vostre sinapsi vi piace no possiamo partire dai si parti lorenzo non entri lo prendo per un altro neanche 7 secondi di attesa lo prendo ragazzi dabba dub dub supremo e si gioca a dub cos'è questa roba io vi giuro che la roba strana perché si chiamava dub perché abbiamo una tartaruga dai che è carino ci divertiamo certo io non il mio il mio avvio di un'olice amai che dopo abbiamo golf c'è volessi ciao marco e ora è un'altra volta non ho avuto quanti quanti è bloccato ma se non è un momento infettivo sono sono nato e ora stiamo girando amici si gira chi cazzo è stai dai 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 no mi sono bloccato non so dove no ragazzi non bisogna perché qualcuno mi aspetta cosa sto vedendo ok ho fatto buca ho visto cose terribili ragazzi ma la buca è lì ragazzi come io ho fatto buca sottoterra sottoterra ora sono passato ayrton e niente dove cazzo è finito ayrton ragazzi ayrton ha preso la buca difficilissima sono l'unico fuori è solamente una buca ma sono tre buche sta mappa si chiama dub e lo so giuse vi abbasso un po run abbassi dovresti cambiare la frequenza di io devo abbassare marco perché io guardo di e che rimbalzare vediamo un po l'amplice è bellissimo ma c'è 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 una tartaruga che ogni tanto si clippa vorrei fare buca ragazzi vorrei però non ha quasi fatto buca cosa sta succedendo ma vai ad agio e niente ha finito i colpi e chi è ad agio oh mio dio oddio 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 ma di nuovo ok no non puoi scendere e invece e invece no ma che ma se merda ma io sono fermo ragazzi ma perché mi ha fatto sparare di sotto con quale voce beh io prima ci ho fatto buca qua fatto double buggy ma e allora sto tartassando per cece scusate permesso grazie ma come cane si entra no allora scusate prima cosa fatta buca non era impossibile dove cazzo era possibile squisi ciao chatta ciao chatta ma ragazzi io non io non avete avete letto il messaggio di saluto dei piedi ciao a tutti belli di nonno immaginonno 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 allora io niente non riesco a fare niente non riesco a fare niente non riesco a fare niente no scusi sono merda come sono composto ragazzi ho fatto buca ma perché voglio fare grazie con chiunque sia stato ma io sto guardando le genti ho finito i tiri ok mi sparo la fanguru gente che ha fatto buca entriamo raggi vostra e l'ho fatta prima entriamo a che ti ha 14 ma ero attenzione contro cosa ho rimbalzato porca di quella miseria l'ha ma non può farmi andare lì ma mi sono tornato indietro ma scusami sei piombato sulla testa e non sono riuscito a sbocciare il marco aiuto allora da ma guarda non mi ha fatto ok ce l'ho fatta scuisa ma contro cosa ho rimbalzato no squasi squasi squadra rimbalzo squasi io rimbalzo contro il nulla e vabbè c'è un muro invisibile qua e vado così io prima anche io prima avevo un problema contro il nulla guarda Airu Airu ce l'ha io sto rimbalzato veramente contro il nulla ma che cazzo dai no dai no giochiamo a nascondaino Airu che viene sbocciato immagini sento le bestemmie di Airu scusi è roba delle medie te le cerchi Airu manca te però che spari che non vorrei dire immagicazzi dice il buon due di per questa cazzo giuse immagicazzi va bene ragazzi la squisi che si vanno insieme delle sue mappe belle oggi ha fatto no adesso ce n'è un'altra Ruga si Airu l'abbiamo visto no allora io cosa sto vedendo ragazzi c'è sempre una mappa stupida e una mappa molto bella adesso arriva la mappa molto bella ma questa non è stupida ricordatevi di queste parole ma ragazzi chi è entrato es che faccia posto sono finito e vabbè faccia posto cose sto scherzando allora ragazzi ti ricordo che il nome della stanza è frufolo scritto con i ph al posto delle f esatto con gli acidi capirei fate scrivere a me le cose ho risparmiato a scrivere e la password è o questa o questa ok amici allora io intanto vi leggo qual è la prossima mappa che andremo a giocare MC Asker in the house un percorso di più o meno buche facili semplici e corte non ci sono vicoli ciechi false buche o barriere mancanti che rovineranno la tua giornata grande due piedi troppe centi bianche è fatto per la modalità classica aggiungi il salto se vuoi ma non è raccomandato infatti è il contatto ci sono anche oddio ma qual è tant'è l'uomino facaccina ma guarda è anche quello che viene la farina guardate che bella questa mappa ragazzi ma è terribile ragazzi mi sei bloccato Inception Inception eh si è il mondo di e porca di quella mi due buche in due di quella mi oh che tigliuscio che mi hai fatto io in tre abba dove cazzo si finita i due piedi it's a fucking it's a fucking i due piedi allora abba c'ha 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 il coso c'ha c'ha il coso di fortnite la pignata abba da Marco Marco è una pignata comunque a che ti ricordiamo che abbiamo il nostro canale youtube dove ricarichiamo le live dove ogni mese quindi dopo domani esattamente esce il best off lo sa non è più una sorpresa la sorpresa è il fatto che ce ne sarà un altro ah beh ho sbagliato amici hai sbagliato no c'ho squisi vicino via sei io troppo no no dove sono voglio fare come fa la run hai fatto ricominciata sei ricominciata cioè hai ricominciato proprio la vita anche io ho ricominciato anche io ho ricominciato ma no ma no ma che cazzo guardiamo la squisi oddio squisi cambia buca ma perché non ci sono le collisioni scusate dicaprio cioè il nuovo aggiornamento ha fatto cos'è a caso no perché mi hai fatto ricominciato l'ampiono del mio no no io non l'avevo sentito buona buona tera a tutto il pubblico maschile e a quello femminile prima a quello femminile e poi a quello femminile perché non ci sono le collisioni ma dove sono andata se lo riferiggio dai bono aiaiaiaia forse forse il nuovo aggiornamento fa sì che ogni volta che cambia mappa devi fare anche le impostazioni marco lo riferiggio ma mannaggia i pescetti mannaggia ti tipo vedi voglio sbocciare male esatto un'associazione maschiosa oddio inter ragazzi ce l'ho fatta bravo jeje è una è una barca a vela radio raccomandata ma no è di quanto mi fa ridere dove hai due piedi due piedi perché intelligentissima aia aia due piedi esatto due piedi due piedi sta vivendo il mio stesso disagio non so adesso stavo riprendendo male due piedi che sto guardando la chat no due piedi due piedi eh no non si ferma non si ferma stringi 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 le chiappe oddio e poi c'è aia non ci sono le collisioni ragazzi questo no ah no squisito la potere in questa mappa oddio siamo salvi amici fantastico solo per poco cioè vedi vedi quel povero due piedi ha fatto ma mancare e poi sono uscito con questo colpo di fino ma com'è che sono comunque penultima è la vita diciamo se il papa non è re è perché il re non è papa ma puttana mia sorella ah sì anche lei anche lei la pecora andrea di famiglia dove sono finito scusate che colpo mamma mia la bravura di questo giocatore di calcio mamma mia ho fatto parra bravissima io sono uscito dalla mappa non so come no 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 io voglio vedere l'oreabba che ha appena fatto buca ho fatto buca c'è due piedi signori ciao due piedi c'è due piedi due piedi due piedi it's the fucking due piedi che colpo capito l'oreabba quindi vatti anche a recuperare il primo best off che cazzo che sono rasterizzate mannaggia cecchietta che ha detto che sono forte no io ho fatto all in tu no vedi no cazzo tutto in qualcosa come ti sta andando vediamo un po' l'oreabba aspetta aspetta hai fatto buca dai su 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 ma no ma sembri infamone ma sembra tipo una cosa tipo macarena però esatto esatto eeeh ti è carena voglio fare un'altra cosa perché secondo me di jevo no che non è una bella idea eh volevo fare la stessa che ha fatto jeje no mamma mia la mia bravura incredibile non è una bella idea no ma se l'abbiamo fatta entrambi in due quindi non ti tengo e io l'ho fatta te la tengo male ma è anche la mia quarta buca di fila che faccio in due che bravo andiamo l'ho fatta in tre in quattro bravo diego ma jeje come è entrato di contro rimbalzo di finno proprio ma no ma non puoi oddio l'oreabba cosa era il ferito il generale dietro la collina ci sta la buca fredda e assassina e io con quanto quanto trasporto e palpatina e vabbè palpatine oh l'imperatore palpatine cristiano ronaldo palpatine invece ah che cosa ho preso qua il cane questa la squisi crucca e assassina con la sua palla i suoi 18 tiri rimbalzi e salti come conigli cosa ho visto squisi anche voi per il vostro canale le canzoni per il vostro canale che cazzo dico per il vostro natale per il vostro natale la collezione delle canzoni natalistie degli unicorni dove c'è dove c'è per sfocciare ma se ti ascolto noi dobbiamo fare una cosa tu lo sai che se la facciamo rischiamo che veniamo denunciati dalla sony records e dalla cia ma io rischierei io prendo questo rischio fatta speciale di natale ogni corgi 2000 speciale di dai ce la facciamo anche se cinque canzoni cinque canzoni facciamo un ep esatto un ep esatto ah del tipo mariah carey tipo mariah carey sai che siete un po' meno gnocchi di mariah carey tipo michael bubler io a massimo 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 mi piace che trigger e vado così alla cia oddio che brutta idea marco oh mio dio no no ok non seguirò marco cos'era è stato come vedere una laurea triennale fatta con c'è dice l'ode in tre anni ooooh cerchione no par ho una brutta esperienza con le lauree eh si te lo faccio per te soprattutto con le feste di laurea cazzo ma ragazzi io ho scoperto una cosa sconcertante che ad esempio a roma dove sta marco non si può capire di laurea ma non si fa il papiro no appunto la briga ma no si ma te la danno dopo te lo danno elettronicamente ormai che è elettronica ma no cosa state dicendo il papiro è tutta tipo la caricatura si ma scusi tira si no la carica madonna io non riesco spiegare aspetta e se fate voglio capire che cosa è questo papiro non va dove va penso che facevi buca così precise in un'altra mappa l'ha testata comunque l'ha testata l'ha testata la pergamea di laurea eh il papiro no il papiro è quello con dove adesso vi tedio in questo modo finchè non mi fate parlare allora dai il papiro è quello in cui c'è la caricatura del laureato ok cose molto anche c'è nel senso con un sacco di doppi sensi e poi c'è il ogni tipo mamma e papà amici sorella lavoro tutte quelle cose lì fanno un trafiletto in rima cioè sulle avventure gli eventi imbarazzanti quelle penso che a napoli l'abbiano tolto per la buon costume appunto ogni volta che fai questa cosa tipo a padova c'è proprio un viale apposta dove lo attacca scusi vai a leggere il papiro spesso è scritto in dialetto veneto devi bere e devi bere nel senso vino o qualsiasi cosa se riparti dal punto sbagliato devi bere a carte e in più oppure bere e in più ti lanciano le uova ma che cosa bruttissima e crude allora cioè la festa di laurea è questa il devasto l'ho visto si ritorna si ritorna un po' a quelle che sono le tue origini campeste come ho le guanna? come hai fatto a fare anche perchè è rimbalzato bevilo 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 tutto un fiato no noi siamo un po' più se è bevuto tutto esatto se è bevuto tutto tutto se è bevuto tutto e noi ha fatto male l'acqua fa male e il vino fa cantare ehi no non è molto più semplice stat sit bevi e fuori beva no no c'era che Antonio ma questo vino pianche un po' caldo si alzi si alzi si alzi si alzi e poi alla fine ti finisce la canzone e mona chi non fa il sangue no non è possibile che ti abbia fatto all in one jege all in one Albino sei io si alzi adesso in piedi si alzi si alzi si alzi si alzi celli ed incominci a bere apre queste miei poi preti anche ai l'acqua fa la russa come c'è l'acqua fa la russa è esattamente l'acqua fa la ruggine beva la vodka incredibile mi pento di tutto attenzione che brutta idea cerchietto sfiorato la buca in uno e io invece ho sfiorato e ce l'ho fatta ho palesemente spinto a iro anche se due sono le collisioni fatto 2 io ho fatto tracco della canzoncina che ha cantato squisi ce l'abbiamo facciamo anche noi ma c'è una volta solo da me non lo fanno capito a una mia ricetta a me c'è così dando la pergamela di laurea quello grande grande ok chi viene attaccato e poi ognuno ha una coppia più piccola dove poter seguire e ogni volta farlo bere o farlo tra l'altro mio fratello la festa di laurea l'abbiamo questi dove sono finito con dei cazzi no è una camicia tutta stretta tutta la pancia e poi l'hanno scoccettato tutto quindi non si poteva muovere ma io riesco cercando la bottiglia di vino prosecco sulla mano e la birra dall'alto ha già mai raccontato che hanno fatto il casinone hanno fatto il dato praticamente birra io sento la gare di mia superiore con le non dimmi no è che sto laggando che vi sento laggare vuole live come la vedete ragazzi bene ma non benissimo non benissimo anna per fare la battuta c'era il gruppo lasciato soltanto il papiro di mio fratello dai ecco io non voglio sembrare cattivo però per quello che di niente a me sta laggando alla magistrale di microbiologia che la sta facendo siete bene l'audio penso sia per clipato come lo sento io ha infatti la stessa cosa ma ci metti bevi e ma è l'ora abba e per vedere che l'ora avevo piede primo e ve l'ho detto ed è a pari punti con il buon marco cerchi dai che buca signori che buca mamma mia ragazzi che ho l'in one dai non so perché mi sta laggando e anche io in uno gg mi sta laggando fortissimo discord non solo motivo adesso sembri stabile che buca signori in un modo 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 quanto rosicato dieghe ho visto se non quando non è niente niente non è razzolato come mamma dieghen t'ho visto questo posto sfiorare il cielo no che dovrebbe andare bene e infatti quindi c'è lo slam che fa il life coach fratello ho preso l'orealba dove ok sta già al quarto perché marco che fa buca la prima visto che la vita non è bastardo ma perché sono stato bravissimo nel 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 and Von Matthew we niente X un continuaggio a app 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 e app 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 i rub priests cofa iru è tanto pasto alla vita però hai ridelto aiua un pazzo buca è comunque sbagliato è impazzito lui un buon cerchietto ma allora bravo ti fro colpo di film c'è pure la scritta oster a squeeze appunto per dirlo io marco stessi zitto un paio di volte nella vita testa a testa fra me marco cerchietto quattro gruppi di distanza va bene accetto la sfida ma porca no no ubriaco ma felice anche se poi cerchietto due piedi muoviamo il culetto un po pischello e marco a gennaio quindi vuoi vedermi in diretta a gennaio cosa a gennaio che deve venire qua a cagliari bisogna andare a cagliari a fare cose di lavoro devo andare a padua devo andare ovunque dei guadagnoli mamma 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 ma quasi gegetto bella iron un disastro però alla fine riesce comunque a farcela ma se viene a bari già beri a beri a beri a beri che palle quattro colpi a marco della porca troppo ah no si per bandere bene e infatti e infatti che palle buca in due cristiano ronaldo era un calciatore del real madrid era giocare a juventus si è bravo davvero non c'è proprio bravo nel calcio no e a che ti non è accorti accorti è un giocatore del paladino è un attore accorti non è un attore ah no è accorsi dai bravo ci sarà un accorti attore stefano accorti accorsi scusate invece ce lo voglio nel culo di egen che dobbiamo fa infatti infatti ti è che ti ha proposto un gay nudo anche io a beri e in ultima questione di ario che poi non sta manco a bari a irust alta mura che cazzo parla con c'è il pane a quanto pare che buono il pane che buono 103 euro da arrivare a bari mi ha un botto di tempo luce mamma mia ballo tutto ballo tutto ok lo stavo chatta ti vogliamo con noi vieni ma come abba lorenzo ha vinto lo sporco ho reso conto ero uno io e niente era scomporso l'audio per un bel po' di tempo adesso arrivo ma è pazzo questo uomo è folle marco non ti va un cazzo questa sera comunque marco non ti va il cazzo ma quello non mi va mai marco merda ecco grazie Dado ciao Dado ciao Dado ah così dai proviamo questa vi ricordiamo così aspetta e io mi sono andata ah ok chatta va bene va bene cari amici stiamo andando su gg paradise scusa ma chatta non viene? no anche io è mezza malaticcia va a finire via nel gay poi affredito ma chatta ma noi ti cioè ti come cazzo si curiamo io chatta è quella parola molto difficile da dire perché è una cosa positiva e noi non siamo abituati a dire cose positive come dice le collisioni? le ho messe madonna no scusate ho detto chi è che è uscito per andare a gg paradise quella c'è una volta era uno scuro un deserto alice leggi ahahahah ok airo facciamo senso di te bene ma eh mi ha scritto airo alice leggi in realtà evidentemente mi ha scritto leggi guardate c'è una nave che cosa c'è c'è una nave eh siamo siamo tornati oddio cosa cosa ragazzi cosa sta succedendo mi imposto il gioco amici fuck come si arriva laggiù mio dio no ah airo non va la connessione oh allora due piedi ah ah no 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 non ci arrivo come sto andando ok con molta calma no perché non potete ricominciare no c'erano lice dietro corriendo ah ah beh l'ho già colpito no ma ragazzi ma sono tornato indietro dai ma anche a me prima l'ha fatto ma ciò che questa è una dichiarazione di guerra dice anche su sot come su sot neanche qui si riesce a non essere alterata vabbè ma ma su sot è giustificata perché abbiamo il capitano che è un dito nel culo no ma su sot è bello perché sotto io lo amo tal punto che non mi incazzerei mai veramente beh oddio madonna adesso ti uccido vabbè ne è perché voi non quelle vabbè ne è vabbè ne è ah ok ma rimbalzi quanto ragazzi si esatto giuse si giuse esatto calcoli anch'io ho capito lice legitt dunque legitt guarda quel due piedi che colpo da maestrom maestrom maestronzo aia che rimbalzino dai lo so ok no due piedi è una palla piccolissima in questo momento ma che dici ma cosa fai ma è bellissimo in questo momento il signor due piedi dopo il penultimo colpo appena tirato è stato telefonato dalla santa sede con il secondo strike al tetto e la sua munica il primo strike è una registrazione abbiamo una registrazione esatto abbiamo una registrazione sì aspetta sentiamola un secondo no 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 oh mi sono fatto spaventare fortissimo perchè la registrazione di cosa? la registrazione pronto signor due piedi ah ok papà francesco devo dire che con questa bestemmia è il secondo strike al terzo ti diamo la scommunica e non può entrare nella santa sede e hai colpito tu comunque fine dove cazzo è la buca? porco di quel sta è una posizione molto brutta brava run ah mannaggia a me jeje le va a dire al k no 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 aiuto dove sto andando jeje culo? chi è che applaude? io perché ho fatto buca grazie mi colpi oh grazie di Egan grazie di Egan ma sei uno stronzo sei un infame sei un infame sei un infame io ho fatto sbagliare a jeje le cose jeje jeje cosa ho visto? che ce l'ho fatto? me l'ho fatto sbagliare io sei un infame Marco Marco questa me la paghi sto aspettando WENDY 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 tesoro Marco l'abbiamo detto insieme ma mi amase quanto ti bacerei tutto no no muoviti a ti muoviti a ti dove è finito? credo sia creato il terzo strike nooo sento le bestemme sento le bestemme fino a qua è tornato sbdm dice leap suona il telefono aspetta aspetta pronto signor due riedi ho visto da cinque minuti fa capisco che tu sei sembrato una stronza ma la hai deve resistere come Gesù Cristo quaranta giorni nel deserto ? sta bam Porsche come Maserati große riuscire a tirare rischi che non ti aveva avuto ormai marco infame di merda l'ho presa per mandarla fuori la vita fa schifo in questo come scusa non mi fa più giocare ma io non mi ho fatti 12 tiri amici vai a chetti veloce 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 che palle ma perché la mia colpa di sponda e nonostante tutto sono quinto ciao matteo ciao matteo dai 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 che la prossima giunisci ma porca di quella ma perché ma semmo e oppure chi è che ha preso te e io da napoli marco sono entrato in un volt grazie marco a che ti ma che ti buona serata tanka cifo ma che ti voglio vedere due piedi allora aspetto qui sono arrivando c'è niente preferisco andare fuori cos'era questo po come vieni vieni veloce 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 come sei piccolino attenzione si ferma lì vendetta vera non finirò in galera comunque ha sfruttato il colpo per rimanere nella giusta posizione per e poi finire luca che perfetto piazzamento tino da bianco due piedi adesso ti banno aggiornamenti dai campi il signor due piedi con un colpo da maestro inaspettato all'interno della curva non agitate quanto sei lento ringraziamo ma se nebuloni da bordo campo che culo mamma mia botta gege due piedi due piedi c'è c'è la tartaruga fortissimo no sono uscita niente la tartaruga mi ha fermato sta stronza la sua puttana mi lasciate fare il mio lavoro tartaruga puttane ciao ma se ho fatto parre pall ah due piedi quanto veloce ok mamma mia dietro c'è c'è dietro c'è dietro c'è dietro c'è dietro adesso non è che mi dovete rubare il lavoro comunque solo marco arrivo a casa oh che bello ti tocchi pure tatanka marco per favore ti manca si dovrà toccare per lavarsi scusate usi la guaina idrorepellente tatanka come scusa io vado forte che ho spinto oh che buca mi porti più ma porca di quella carico tutto dimmi gege contra cosa sono sbattuto contro di me marco mannaggia vai a fare nel culo c'è tipo in due mesi di andare marco però quanti tiri sto sprecando ok olè questo è un colpo buono è un colpo buono stamattina mi ha scendato il sole la gioia del caffè non stai in un regal suide è New York no boom mamma fa culo ok ok no 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 ci sta oh mio dio questo è un colpo di credino eccolo alla ma io non ti ho colpito ma perché non hai colpito nessuno si è passato in mezzo a tutti certo peccato che hai colpito a me peccato che hai colpito a me ah ti ho colpito eh mi soddisfi ah quindi non è per Team Rocket quello che ho visto era Tiegen ah io non l'ho visto neanche muoversi ci sono arrivato forse solo ora ma è Nick Due Piedi è riferito al gruppo To Fit no 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 niente un personale cosa ti stavo per fare era palese è palese è una storia molto bellissima cari bambini questa è la storia del signor di come la mia vita è cambiata capovolta sotto sopra se voglio sapermi cosa hai fatto culatevi no cosa ha fatto Gesù or su due piedi io ti ringrazio e con questo clistere mi levo dal cazzo ti levi il clistere o ti levi il cazzo che rima ragazzi che rima scusi se mi sei il mio obiettivo non copiarmi guarda sei poco originale beh se gli altri sono il tuo obiettivo allora ci sarà qualcuno che ha come obiettivo si ringrazio che ho colpito mannaggia la tartaruga no squisi sei una persona brutta tu hai il bellissimo no squisi che si tricchiera tantissimo ma dai no no amici dove è la buca perché dove ho ok così dovrebbe andare bene no sono in buca io ma dove sto dove è la buca or su due piedi ti ringrazio forza Roma e a basso l'acqua oh vi ringrazio vi ringrazio esatto esatto c'hai ragione allora proviamo a fare così aiuto no quanto verde è questa buca proviamo a fare così ma ricordo con ardore giuve merda quel calore che fa tanto ragazzi ma la buca dov'è scusate ah ok è qua sotto guarda il cece che ci prova cece ah ah ci ha provato eh no non sei un cecchino come me 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 quanto verde effettivamente la buca è una buca dei folletti ah ok oppure è una buca irlandesa ragazzo ah dove è la mia green elf hai è not guarda l'oreabba ho pighe primo l'oreabba ha la vittoria in pugno ormai mannaggia mannaggia cosa fai gliela tira gliela buca è cristiano è ronaldo sono tornato indietro anche io minchia guarda dove minchia è la pia levati dal kaisers ragazzi sono tornato veramente dietro aia cosa io sto vedendo aia voglio andare fortissimo no caro smettiamo aaa a due piedi ma fa un cuore che c'è abba non capisco ma marco no perché sto tornando indietro oddio mi stavo clippando sopra no dai abba ti stavi clippando sopra oddio sta qui si che buca che buca che buca che buuuu mi ha colpito no dai che scendo di nuovo no 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 Alice no Alice Gislam comunque fa una giusta fa una giusta disequazione ciao Diego ciao spiace Kino i sborde ultima in classifica oddio è chiaro oddio è più bello di ultima in classifica io ho spondato a Ketty in una maniera incredibile grazie guarda che non ha bocca a me non interessa stavo scendendo giù me l'ho tenuto su come scusa 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 come un boing 746 no 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 ok sono tornato su Gegge no 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 fermati e Gegge quanti rimbalzi dal moni strano Marco è l'ultimo colpo no non ci credo non ci credo no ragazzi oddio cosa ho fatto cosa ho fatto cosa ho fatto cosa ho fatto no allora praticamente ero tornata dietro indietro per Ergege no e a un certo punto ho tirato l'ultimo fortissimo mi sono clippata col piano sopra e sono salita automaticamente sopra hai rotto la mappa la mappa è mia eh l'hai rotta? la mappa è tua non vuol dire che non puoi romperla scusami no ma io ne ho più cura di voi bravo Geggino nooo sì 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 oh ma che bocca esgere oh oh amici che oh cosa ho fatto esgere sta Marco 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 ho fatto uccellino Ho fatto uccellino anch'io Cosa ho visto? C'è c'è Uccellino Scusi però E' bellissimo Ma è bellissimo perché gli fai perdere mosse Così è stupendo E' un cane che parla Ah che sfiga ragazzi Scusi dal lato sbagliato Esatto Ah cosa sto guardando Cambiamo Marco vogliamo cantare una canzone per Dado Io comincio e tu mi segui Va bene la proviamo Dado Uuuu Oggi che è uscito il film E non è un caso Tu mi fai piangere Piangere Ok Ma non mi stiri mai le camicie Dado Con i suoi Scusi mi dice Sto cantando Cosa? No In chi sto cantando Non mi friega niente E Masa ha detto E non importa Ma se prende La testa della classifica La testa del capo Oh madonna Io che copio le mosse di Marco Allora Bastardo figlio di trota Levate Figlio di trota Ops Sorry No Peccato Wow che buca incredibile Maffanculo Masa Ho fatto uccellino Ho fatto l'aquila Alice sono offeso Dice Dado Ma l'ha detto anche lui Che è iei O no Non lo dice sua madre Ho detto Noi non usiamo quel termine Come insulto Noi lo usiamo Come vezzeggiativo Ma infatti Cosa ho fatto io L'ho usato come vezzeggiativo Ok Voi siete soltanto Dei malfezzeggiativo Non ho capito la parola Gege per favore Non metterti anche tu In mezzo Eh? 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 Sì 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 Che c'è? È il Gege che ha cominciato Non è vero Come l'ha messo subito Non è vero Ho appena ucciso Gege È un merito Ciao Ais Come va? Ho sparato Ais Chi è arrivato Chi è arrivato Ho capito Benveni Ais Ciao caro Come la va? Come la va? Come la va? Ah ok Buon salve Che mi chiede di vita egizzi È troppo tentato Guarda Non sai quanto Con squisic Gnagnagnar Ah ma io ho finito i colpi Eh sì 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 È vero Ecco Non potremmo recuperare Con la potenza di Abba Di Barabba Di Barabba Barabba che Babba Non vaffanculo Dove sta la buca? Eccola Mi che giro che doveva fare Ah chi ho colpito? Ah nel sorriso ai piedi Guardi dal cazzo Adesso lo caldo dall'altro lato E invece Ti mannaggia Canto Gregoriano Grazie Lore Che è giù Gerusalemme Porca di quella puttana Eva Troia schifosa No Cos'è stato? Qui sì Allora lo caldo Ti voglio un sacco bene Adesso è sempre colpa di Gegge Perché è lui che Ha cominciato a copiarmi Io ti voglio un sacco bene Porca di quella puttana Che cosa Mi vuoi bene Come stai Ah va bene Va bene Però Grazie mille comunque Per essere passato Allora Anche Quanto forti Famiglie C'è un caino E c'è una pelle Adesso non do soddisfazione A Gegge No Povero Abba Che è un bastardo Gegge Ah cazzo Scusi è particolarmente divertente Eh lo so No Ci ho messo 800.000 colpi Mamma Naja Lo so Gegge Infatti era il mio lavoro Ma tu sei un copione Infatti è una cosa sadica Adesso Tu non l'hai preparata Dai Glielore Devi fare meno di 5 Devi fare più di 5 tiri Per cortesia E mi sa che Uuu Le stuglie va tirata Eh sì Perché sto c'è una volta con lui Per il primo posto Beh che ci sono anch'io Che piano piano recupero Quanti ti ti hai fatto te Mase? Eh tanti 9 Io 7 9 Eh infatti una marea Caro mio Rip Lore Nozze 5 tiri diegon Sì Quando non ce la squisi di mezzo Ce la fa Eh non l'ho neanche visto Purtroppo Guarda come C'è se che è un bel cazzo Mi impedisce C'è Proprio E Abba la mette No Attenzione Menti e 16 tiri Attenzione Però almeno non sono ultima Cosa cosa ho colpito Nella speranza di non colpire E infatti Dai chi cazzo ho colpito Me hai colpito Oh ciao full metal robe bellissimi Ciao Ciao Propponelle Le vostre sorelle Madonna Grazie mille Benvenuti Cos'è Grazie Chiunque sia stato Benvenuti Chiunque sia stato Spera Spero che incontri Vlad l'impalatore Colpa di Gesù L'impalatore Impara Cazzo Ragazzi Fatemi andare avanti Di un millimetro Almeno Non plasmon Ma Cazzo E comunque Colpa tua E non ce la faccio A trovare la potenza Giusta Neanche io Ce la do io C'è squisi Via C'è squisi via Ma povero Povero L'oreabba No Sì L'ore Io ti lascio stare Soltanto E Marco Via Ok sono passato Ma ce ne sta un altro Dai che due palle Via Ciao Diegen Che paura Diegen Ciao Ciao Achetti No Fatto di non belligeranza H Achetti Quanto senti io H No No L'ore Tira Via 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 e basta due piedi due piedi ragazzi ma io non so se vi siete accorti che siamo stati raidati con 7 tenti con quali chi? con il full metal robber abbiamo già salutati si no ok ma con quanti quante persone? 7 eh ragazzi però noi vi abbiamo pagato di più però eh le mazzette le dovete rispettare siamo in 17 aia ma hai calcolato anche l'iva perchè c'hanno c'hanno ne messo fattura eh no è tutto in nero ma se c'è guarda cosa c'è sfiora la buca cosa è successo? non lo so non sto rosicando di che è di più veramente tirando maio che cosa vuoi da me? no ringraziami dai ti ho portato cosa vuoi? quanto è tesa la sfida quanto è tesa la sfida tra me e l'oreabba siamo a un aia chi è stato lo stronzo ma buonasera romano di periferia ciao achetti ciao romano di periferia a me ci devo fare un brutto romano no mutati bravo mutati ciao grazie 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 non ce la faccio patto di non belligeranza eh patto di non belligeranza come sorriso chi l'ha stipulato il patto di non belligeranza marco? tra me dieg e nio ah come si fanno? ma quanta forza hai nelle braccia amore dio no è vero è il secondo mesi versetto del canale ragazzi oggi il nostro canale compie due mesi tra poco potrà anche partecipare alle lezioni tra poco potrà anche partorire uran come scusa? auguti gli acuti i miei acuti i re acuti squisì bimbo a bordo bimbo a bordo cosa è questa cosa? ma come cos'è questa cosa? di fianco al mio fine i re acuti squisì no questa canzone è il signor di domani conosco Marco guarda jaymon squisì cosa? è partito il carna simpson ok vai posso? il carna simpson questa cotoletta col fan di sesamo è proprio una bontà la canzone più bella di simpson è tocca tocca qui tocca tocca la tocca tocca qui tocca tocca la tocca tocca qui tocca porca puttana ma dove sto non ci voglio provare dove cazzo sono finito amici la vitello giro gira la ruota che grande paura cittisto stronzo saveria che ti zitto zitto fa lo stro zitto zitto cacchio cacchio pucca il 5 scendi 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 marco la vita al cazzo la lampiona è niente e niente no lori abba ancora non ha fatto non ha finito la buca lori abba dove cazzo è noi vedo solamente squisi la fine l'ha fatto è perché mi dice che hanno fatto in cinque colpi dai siamo pari io sono qui da sempre che brutta ragazzo questa mappa si spuntone guarda ma porca puttana non ci credo no no non l'ho fatto apposta e non è stato voluto e quindi è molto diverso ragazzi ringrazio chiunque sia stato io grazie squisi ho fatto uccellino uno che riconosce il mio operato ma scendete e cacchino cacchino perché di sotto sei stronti mi vedo tutto però buone in panico ti prego ti prego ti prego ti prego ti prego se cortesia ti voglio un sacco bene grazie cazzo ma l'ha fatta in cinque loba ma cristiano ronaldo pure dire che l'ha superato no vabbè io anche l'ho fatta in cinque no non è vero non è vero non è vero non è vero no io sono già dieci ma eh no infatti ho sbagliato a vedere sono già che sono out of strokes in ma abba perché abba non ho ancora tirato scusate no no sta aspettando è lì come la quiete prima della testa oh grazie chatta ma chatta grazie chatta sei bellissima grazie 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 ha rinnovato l'abbonamento hai stesso l'abbonamento un regalo ricevuto da tuoi piedi ma quindi devo ringraziare i due piedi scusatemi come i due piedi cosa no ha rinnovato l'abbonamento l'aspetta i due piedi e allora dobbiamo ringraziare i due piedi no perché il primo mese è stato regalato da due piedi esatto e poi è stato stelto allora chatta è una di noi una di noi e chatta è una di noi una di noi quanto brazzo chatta sappi che la tua la tua subscription verrà spesa in droga per far sì che cecchietto stibi un po' se stesso di più verrà spesa da me per fare la droga a te per fare la droga ragazzi sono secondo sono un quarto ragazzi sono ancora primo com'è possibile che c'è il chietto secondo io sono finito molto indietro mannaggia potevo fare all in one e io ho fatto all in two mamma mia ma ha sfiorato tantissimo che paura panico no tutto quanto decentrato coverino che sfiga amma mia chatta quanto sei bella domani vengo a trovarti in facoltà e ti porto il mio professore di elettronica chatta denuncia ma dove cazzo hai finito due piedi infatti perché perché sei là due piedi due piedi come ci sei finito scusa perché ho visto qualcuno sfregiare davanti a me tipo è una serie di sfortunati eventi catastrofici adesso torno indietro torno indietro guardi guardiamo abba dai due piedi confido in te no no non confido più abba no povero eh l'hanno spinto l'hanno spinto ah e allora te lo porto lunedì il professore di elettronica dai ma più forte abba due piedi no cosa stai facendo ci credi che da solo è lui due piedi due piedi squisi Ayrton dice che soldi bestemmiasi aspetta Mase Mase madonna Mase che i soldi verranno spesi per poterti far shoppare su Sea of Thieves oh grazie vedi che Erton mi conosce molto bene voi perché dovete alimentare le come si chiamano le dipendenze delle persone perché questa è una bella dipendenza voler essere un pirata è meraviglioso e io lo voglio essere perché ricordati fa ciò che vuoi perché un pirata è libero tu sei un pirata sono te grazie grazie ti ricordi bene te la ricordi bene dei piedi questa no Marco posso dedicare due versi a due piedi per questa canzone per questa pizza un verso lo faccio io ma io se ci stai ricordo no ma ti tieni in memoria l'ultimo tiro che hai fatto con la potenza si l'ho fatto io l'ho messo io ringraziatemi grazie scusa vai toglietti dalle palle sai non l'avevo visto non l'avevo capito ma se a che tiro stai al tiro sei toglietti tirate ma perché ma perché sei andato in buco no squisi ho sbagliato lato mi dismiazzo mi ammazzo squisi mi ha fatto scendere di sotto scusa era per un bene superiore era per un bene superiore eh si che cacchio sei svolte morto nel 7 svolte morto svolte morto niente Marco mi sa che mi superi perché non ce la sto facendo mai e non lo so a 6 e io sto a 11 non riesco ad entrare nella buu no squisi toglietevi squisi il bene superiore era colpire Marco e immaginavo squisi poi ti passo la 10 euro la 10 euro eh si squisi hai evinato hai spinto via Marco da una gara di golf non è che io non ho fatto niente sono soltanto spaunata io adesso ti sboccio aspetta un attimo sono soltanto spaunata e Marco stava tirando in colmo ah quindi non è colpa è colpa di Marco no esatto no squisi e cosa ho fatto Marco io sto a 11 ma se no ma io ho finito vabbè io adesso citerò un suono di una creatura fantastica del mondo di World of Warcraft bla 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 come scusa cosa è ciubecca no ciubecca una creatura di World of Warcraft ciubecca sì ma come Out of Time e niente ma se non ma se sta per ringerare Marco scusate cosa sta accadendo cosa ho visto dove è la buca però amici non è la buca ci sono i tesori saccheggiamo c'è il coso blu sì c'è il coso blu amici guarda dove cazzo sono finito no ma come svolte mi rappresentano la tua versione con il naso eh sì io non sono duro parabonsi bonzi io no è stato il viagra mi fa allergia come fai a saperlo perché quando è venuto qui a Roma lui ha visto ma dagliela me bionda dammela a me ciao Apino buonasera sei l'ultimo Apino ma non hai rinnovato la sub sei solo è vero Apino è vero ma guarda con che precisione terzo ho vinto amici ho dominato amici si prende il bronzo e argento per centino e oro per maserazione dobba ragazzi non lo sperava allora e nonostante tutto la squisi non è riuscita neanche ad arrivare ultima è vero perché ergege non sa fare il mio lavoro bene hai capito hai capito allora amici hai molto da imparare sorprendentemente in orario sorprendentemente in orario ha vinto lo sporco no ho vinto io andate a fancuno appunto per questo ha vinto lo sporco ha vinto lo spacco lo sporco eh sì lo spacco allora amici grazie per essere passati vi ricordiamo che grazie noi siamo in live ogni giorno vi ricordo che siamo in live ogni sera dalle 22 alle 23 vi ricordo di mettere il follow se ancora non l'avete fatto una sabba per sostenere il nostro il nostro progetto e se volete perché no offriteci anche un caffè con una donazione vi ricordiamo che siamo attivi anche su altri social poi insomma dicevo vi ricordo che siamo attivi su altri social come instagram dove carichiamo non ce la fai ora com'è in video è in video e non lo stavo parlando io oggi non ce la facciamo vi ricordo